in desabillé perché ho finito di finalmente ho finito di ristrutturare lo studio finalmente studio completamente rinnovato spero che anche le notizie si rinnovino un pochino perché non ci sono delle gran notizie incoraggianti che ci fanno cambiare un po diciamo l'umore anzi ce lo fanno peggiorare ulteriormente perché il conflitto continua e hanno iniziato una cosa che già facevano però adesso l'hanno portata all'ennesima potenza ovvero quella di fare terrorismo nucleare attento che state collegati per parlarne insieme intanto alle mie spalle come vedete c'è il nuovo studio ci sono gli inviti e gli inviti da eseguire ovvero quello di iscrivervi al canale di youtube per quelli collegati su youtube e seguire la pagina di facebook due inviti molto semplici ai quali non potete dire di no perché sono gratuiti entrambi se volete dire di no fatelo e poco importa però in verità più siamo meglio è ciao nicodemo vallante vediamo il primo collegato di facebook e insieme a rosana de pera di utori ciao abbiamo angelo buffone collegato su youtube ciao caro angelo armanda lauri allora i primi che saluto sembro felice ma in verità c'è poco da gioire perché amici qua hanno e ne parlano poco stanno facendo un vero e proprio terrorismo oculari dato stavo guardando la maglia che ho finito di tinteggiare o di o del ne perché fatto le pareti nere e nero e rosso e per par condicio vedete che io ho due colori nero e rosso gli estremi si incontrano questo è quello che dico sempre è quello che dico sempre ciao shalom shalom michela assolutamente shalom ma abbiamo ayrton senna nome d'arte e che è collegato sai quanto me ne frega di quello che dice fa quella selvaggia ce l'ha ancora con selvaggia sono ancora lì che stanno condividendo il se molto bello sembra il box della ducati esatto l'ho fatto un po in stile ducà un applauso alla nostra ducati sembra il box della ducati allora amici tra parentesi molto grande sembra piccolo alle mie spalle ma vi assicuro che se vado il cammino è veramente grandissimo ciao amici guardate ciao ciao sono i pantaloncini sono i pantaloncini da pittura da pittura amici allora andiamo a vedere le notizie amici cosa è successo il mosca il conflitto dice mosca che il conflitto tra russia e occidente di fatto è dovuto questo in questo caso a questo raid ucraino e che ha portato il conflitto verso un terrorismo nucleare attenzione dichiarazioni molto forti di putin putin che 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 si lamenta di quello che è successo perché peggiora ulteriormente la tensione intorno amici alla guerra tra russia e ucraina e come alcuni analisti avevano previsto ovviamente mosca alzato il tiro in conseguenza degli attacchi sul suo territorio in particolare al raid raid molto molto pericoloso che c'è stato da parte sembra dell'esercito ucraino e nei confronti della centra che ha distrutto non ha distrutto perdonatemi ha creato danni alla centrale nucleare di zaporizia il ministro della difesa russa andrei belonzov belonzov ha rilasciato una dichiarazione che potrebbe portare il conflitto sto guardando alcune fonti di stampa e su un altro piano ovvero la guerra che la russia sta conducendo affermato non è contro l'ucraina ma contro l'occidente collettivo guidato dagli stati uniti e dai suoi alleati queste sono le dichiarazioni del primo ministro e il ministro della difesa perdonatemi russo belosov che sostiene che la situazione in via di rapido inesprimento quindi in rapido peggioramento di fatto e per gli eventi dell'ultime ore sia dovuto al desiderio degli stati uniti dei loro alleati di portare il conflitto a un'espansione che va dal di fuori dei confini ucraini e russi attenzione perché qua hanno usato tra parentesi sembra armi e occidentali ci sono le immagini e ci sono immagini della centrale in fiamme e alcuni hanno detto che in verità cioè Kiev avrebbe risposto le autorità di Kiev avrebbero detto che in verità secondo loro non è stato un attacco ma è stato un autoterrorismo fatto per incolpare far ricadere la colpa sugli ucraini amici io già anzi noi abbiamo già visto durante questa guerra delle operazioni meschine dove nessuno si voleva prendere la colpa vi ricordate quando hanno fatto saltare hanno tagliato il gasdotto hanno distrutto il gasdotto Nord Stream se non sbaglio due o tre venne distrutto e dissero sono stati i russi che l'hanno fatto e tutti poi venne fuori che non furono assolutamente i russi ma dei terroristi ucraini ogni dubbio io come dico sempre ogni dubbio è lecito non ho la maglia perché non posso sporcare durante i lavori la maglia di ogni dubbio è lecito ma in questo caso più che mai ogni dubbio è lecito la cosa la cosa chiara qual è che il terrorismo nucleare è già partito da un pochino perché tutte le forze hanno iniziato a parlare da Putin che più volte ha detto armi nucleari armi nucleari alle a Macron Macron quante volte Macron ha detto armi nucleari siamo in diretta Cristian M siamo in diretta assolutamente siamo in diretta ciao ragazzi robbi fenomeni nato e una voglio 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 disintegrare l'Europa io ho un grosso ho un grosso timore questo mio timore io prego che non succeda che la guerra si espanda veramente in Europa e basta un attimo basta un attimo di follia io la chiamo follia in verità però diventa un autodifesa da una parte un attacco dall'altra però che qualcuno faccia il passo più lungo della gamba quel passo che potrebbe essere decisivo e drammaticamente finale e andando lanciare armi nucleari spero che non succeda ovviamente spero e prego che non succeda da Cristiano noi ci aspettiamo tutt'altro però io vedo poca diplomazia amici io vedo veramente veramente poca diplomazia l'unica diplomazia che stanno usando è quella che è un po' tipica dell'invio di armi non è diplomazia inviare armi ma è l'esatto contrario intanto abbiamo ciao da carpi cristian da carpi ciao ciao qui andiamo sempre peggio nella merda max finali assolutamente e zeleschi amici zeleschi è andato in giro per il mondo a richiedere armi e giustamente o ingiustamente non sta a me decidere io posso solo raccontare i fatti quello che succede ed ora un po' cercherò di essere più possibilmente sopra le parti però raccontando quelli che gli altri non hanno il coraggio di raccontare e zeleschi anche in questa vicenda capiremo se è stato zeleschi con il suo esercito a fare questi attentati nei confronti della centrale nucleare che attenzione c'è chi dice la centrale nucleare potrebbe esplodere no no difficilmente le centrali nucleari possono esplodere anzi non possono esplodere mi sono informato da alcuni ingegneri che lavorano nel settore nucleare mi ha detto non può esplodere esplodere quello che può succedere che si crepi il reattore e ci siano ovviamente ci sia una dispersione nell'ambiente e ovviamente delle radiazioni quello che è successo un po a cernobil un'esplosione vera e propria non può capitare è chiaro che amici stanno evacuando da quello che dalle ultime fonti dicono che stanno iniziando ad evacuare tante tante persone perché hanno timore è un po quello che ha fatto diciamo che questa cosa qua se fosse stato zeleschi sarebbe meschina quanto quello che ha fatto però putine a suo tempo nei confronti della centrale nucleare in ucraina quindi diciamo che qua di santi ce ne sono pochi e io non posso dire chi preferisco ma è palese chi mi conosce sa e chi preferisco io preferisco la pace preferisco la pace e temo che il partendo dai nostri dal nostro ministro degli esteri partendo dai nostri diplomatici per arrivare quelli in europei quelli della nato e quelli russi allo stesso tempo l'ucraina lasciamola stare che per me proprio di diplomazia non hanno nulla e l'hanno dimostrato in questi tanti anni però amici qua la situazione è veramente schifosa ho preso ha preso fuoco il cammino di raffreddamento non c'è lì dentro il nucleare esatto esatto joseph crucia e curiale ha detto una cosa giusta ha preso fuoco un cammino di raffreddamento è chiaro che se dovesse danneggiarsi viene piombato l'impianto quindi può essere per ora la peggiore delle ipotesi dovrebbe essere quella si spera non peggio è chiaro che sono danni volontari sia che l'abbia fatto zeleschi sia e che l'abbia fatto putin per far ricadere la colpa sul zeleschi a prescindere stanno facendo entrambi entrambi lo diciamo terrorismo nucleare e questo e questo non va bene amici noi vogliamo la pace e il problema è che non lo dimostriamo noi vogliamo la pace i popoli europei vogliono la pace dico europei perché siamo in europa e uscire dell'europa è utopistico qua io vorrei uscire dall'europa sarei il primo a firmare se ci fosse la possibilità di uscire dall'europa ma non si può fare detto questo visto che non si può fare sicuramente in un tempo breve ci siamo quindi dobbiamo parlare parlando dell'europa bene la popolazione europea che è composta come ben sapete da italiani tedeschi francesi via dicendo spagnoli non vuole la guerra non vuole la guerra vuole la pace allora invece che dirlo da caso urlarlo sui social network stiamo facendo politica sui social è una cosa indegna un conto è fare informazioni un conto fare politica amici invece che dirlo e basta bisognerebbe invece che andare allo stadio allo stadio ci potete andare ma magari dedicare anche le due o tre ore non solo lo stadio ma anche le piazze per andare a manifestare questa volontà di non vedere più le guerre perché se noi non lo dimostriamo i nostri politici se noi continuiamo andare in vacanza andare andare a ristorante andare allo stadio guardare grande il grande fratello in italia adesso c'è tentation island è il massimo della cultura italiana tentation island amici sicuramente non non potremo assolutamente dimostrare ai nostri politici che noi della guerra non ne vogliamo sapere vabbè detto questo la notizia e la notizia è importante ovviamente e ne parlano meno del dovuto dovrebbe essere la prima notizia su tutte le pagine dovrebbero parlare solo di quello perché hanno una nuova fase è uno scontro vero e proprio ancor più diretto amici tra tra putin e l'aleanza atlantica con la cina però attenzione una cina sullo sfondo che potrebbe in tre minuti dire mo ci avete rotto le scatole e mo interveniamo interveniamo e se dovesse intervenire la cina amici sarebbero veramente cavoli amari se ne fregano mariamun assolutamente se ne fregano bisogna pregare si ma bisogna pregare andando anche nelle piazze in milioni di cittadini europei è l'unico modo per dimostrare ai nostri politici che vogliamo che qualcuno si sieda per disarmare per un disarmo mondiale come ha detto celentano del sud celentano del sud assolutamente un disarmo mondiale invece no investono le nostre tasse i nostri soldi i soldi che dovrebbero andare in pensioni dovrebbero andare in sanità dovrebbero andare e per i nostri giovani per per studiare dove vanno vanno per l'acquisto di armi che regaliamo puntualmente a zeleschi vabbè vorrei ricordare il proprio popolo ucraino che tutte queste armi le dovrete ripagare e sapete come ripagherete col vostro lavoro con le vostre case con le vostre con la vostra vita con i vostri prodotti con la vostra materia prima con la vostra ucraina che di fatto non è più vostra ma sarà degli stati uniti della nato e via dicendo detto questo vi saluto ciao a tutti e che dire preghiamo preghiamo